La libertà, vale giù la morte, la libertà, quanto accende il morto per noi, chiedete, quanto accende il morto per noi, vedete, c'è un aeropossa, 12, medagliatore, oggi ho sentito la cosa, la scuola. La libertà, non ha preso, è meglio ci andare a loro, è scendere la guerra, la libertà, quanto accende il morto per noi, voi, 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 Buona, la libertà, la libertà, va, 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 Grazie a tutti.